Eccoci qua, buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Unime d'assegno, la dassegna stampa commentata che cambia che tutti i giorni, alle 10 per 10 minuti, vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, nella puntata di oggi parliamo di politica a stelle strisce, un po' come ieri, di B Corp e di tecniche di rimozione della CO2 dall'atmosfera. Vi ricordo che se avete notizie, domande, cose che volete segnalarmi, potete scrivermi nei commenti di questo video e anche che sulla pagina rassegna stampa e tale che cambia trovate tutte le notizie che cito e i link rispettivi, nonché questo format in versione podcast. Va bene, cominciamo. Allora, i giornali di oggi aprono con tre principali notizie che sono ancora aggiornamenti sul coronavirus, Sanremo e la politica negli Stati Uniti. In realtà non ci sono grosse novità sul coronavirus, non ho molto da dire su Sanremo, per cui direi che possiamo riprendere brevemente il discorso di ieri e parlare di politica negli Stati Uniti, perché ci sono stati due eventi significativi in realtà ieri, cioè uno è stato il discorso sullo stato dell'unione di Trump, che sarebbe un discorso che tutti gli anni il Presidente fa di fronte alle Camere riunite e per fare il punto sulla situazione economica e sociale del paese, diciamo. L'altro sono i risultati, che in realtà sono ancora parziali nel momento in cui registro, delle primarie democratiche in Iowa, di cui abbiamo già parlato un po' ieri. Allora, nel suo discorso Trump è stato un po' un fiume in piena, nel senso che ha detto un sacco di cose, ha detto che gli americani saranno i primi a mettere la loro bandiera su Marte, che l'America è il santuario dei cittadini che rispettano la legge, ma non degli stranieri criminali, che il meglio deve ancora venire, questa cosa è abbastanza preoccupante, ha intimato l'Iran di smettere con il nucleare, ha detto che sotto la sua presidenza i mercati americani sono saliti del 70%, e poi con un colpo di teatro ha fatto comparire Juan Guaidó, che sarebbe il leader dell'opposizione in Venezuela, annunciando che la tirannia di Maduro sarà schiacciata. In compenso non ha mai nominato durante tutto il discorso l'impeachment. Nel frattempo il congresso era praticamente spaccato in due, come non mai, con i repubblicani che applaudivano ad ogni parola del presidente e i democratici che protestavano, indice di una polarizzazione che in realtà caratterizza un po' tutti gli Stati Uniti contemporanei. Nel frattempo però i democratici sembrano aver lanciato un bel assist a Trump proprio con le primarie dell'Iowa, che hanno fatto più notizia per i ritardi e per la confusione che è seguita alle votazioni, con i ritardi di oltre un giorno, con la disorganizzazione abbastanza lampante, piuttosto che per i risultati stessi, che comunque sono stati abbastanza sorprendenti, perché siamo a circa il 60-70% dello spoglio dei voti, scusate, però sembra che per adesso sarebbe in vantaggio Pete Buttigieg, che era l'outsider, seguito da Bernie Sanders, seguito a sua volta da Elizabeth Warren e solo quarto Joe Biden, che era ed è tuttora considerato il favorito dai pronostici. Quindi decisamente sorprendenti. Comunque chiudiamo la parentesi sulla politica a stelle strisce e parliamo di B Corp, perché c'è un articolo di valori dedicato appunto alle B Corp e alle società benefit, che in Italia è un movimento che sta crescendo moltissimo. In realtà B Corp e società benefit non sono proprio la stessa cosa, sono due status diversi che però certificano più o meno una cosa simile. Nel senso che le B Corp sono un network internazionale di aziende che si sottopongono a un test di autovalutazione che tiene in considerazione la sostenibilità sociale e ambientale del loro operato e se superano un certo punteggio, dopo essere state in realtà passate al vaglio da un ente certificatore, possono avvalersi di questo status. In Italia sono 100 per adesso e valgono 5 miliardi di euro. Questo è il sunto dell'articolo di valori e chi vuole affrontare questo percorso per diventare una B Corp può rivolgersi a Nativa, che in Italia coordina e facilita questo movimento ed è stata la prima B Corp italiana, a cui tra l'altro abbiamo dedicato una delle nostre storie di Italia che cambia. Ve la metto fra gli articoli sulla pagina della rassegna. Ma in Italia abbiamo anche, e siamo stati il secondo paese dopo gli Stati Uniti, una legge sulle società benefit, che sono le società che inseriscono nel proprio statuto una finalità di impatto positivo sul bene comune o sull'ambiente a fianco al profitto. Insomma, sono i contorni, quelli che definisce, che delinea l'articolo di valori, di un movimento in crescita, sinonimo del fatto che nel mondo sta crescendo la sensibilità delle aziende per quanto riguarda l'impegno nella sostenibilità ambientale e comunque una direzione verso una transizione ecologica. Certo, non è che le B Corp siano la formula magica per risolvere tutti i problemi delle aziende o del mondo, nel senso che alcuni problemi sono talmente endemici, alcune aziende talmente connesse con le criticità che dobbiamo risolvere, che non serve a granché diventare B Corp, nel senso che se sei un'azienda che estrae petrolio e noi il petrolio non dobbiamo smettere di estrarlo e di bruciarlo, fondamentalmente non è che le B Corp risolveranno la situazione. Però è comunque appunto sinonimo di una sensibilità che si sta diffondendo sempre di più, quindi è una cosa sicuramente interessante. Ultimo argomento della giornata, che è un tema un po' spinoso, parliamo di tecniche di rimozione della CO2 dall'atmosfera, perché Green Report pubblica un pezzo sulle nuove ricerche del Politecnico di Milano su questo tema e pare che dopo un anno di studio i ricercatori del Politecnico abbiano presentato questo progetto che si chiama Desarc Mare Sanus, che è un progetto che vuole contrastare allo stesso tempo due problemi ambientali molto rilevanti collegati all'anidride carbonica. Quindi l'aumento da un lato delle concentrazioni di CO2 in atmosfera e dall'altro la conseguente acidificazione degli oceani. Il processo che hanno messo a punto i ricercatori consiste nello spargimento di idrossido di calcio sulla superficie del mare e questa cosa genera una reazione che al tempo stesso renderebbe meno acida l'acqua del mare pur consentendogli di assorbire più CO2 dall'atmosfera. Questo più o meno quello che ho capito in realtà, non ho detto che abbia capito esattamente tutto. Fatto sa comunque che questo è solo un esempio delle tante possibili tecnologie che sono in via di sperimentazione per la rimozione e lo stoccaggio della CO2 dall'atmosfera. C'è chi la vuole mettere sotto terra, c'è chi ci vuole fare delle batterie, ci sono tante opzioni sul tavolo. Come dicevo però è un tema veramente molto delicato perché se è vero che probabilmente viste le concentrazioni attuali di idride carbonica in atmosfera sarà necessario anche intervenire in qualche modo per sottrarla, d'altro canto si tratta di operazioni davvero molto delicate che vanno sperimentate su piccolissima scala con mille cicli di controllo e poi eventualmente se tutto va bene applicate su scala più ampia. Perché siamo sempre lì, in un sistema complesso come è l'ecosistema terrestre non possiamo mai sapere a priori le conseguenze delle nostre azioni. E poi soprattutto, altro tema importante, non si tratta di azioni sostitutive, questa è di sottrazione dell'atmosfera, della idride carbonica dell'atmosfera, di azioni sostitutive rispetto all'azzeramento delle emissioni e che è importantissimo che rimanga comunque la priorità quando parliamo di emissioni di CO2. È un po' come dire se hai la casa lagata e i rubinetti aperti per prima cosa chiudi i rubinetti e poi ti preoccupi di togliere l'acqua in eccesso. Quindi ecco, questo sicuramente ne volevo parlare perché è un tema molto attuale di cui stanno iniziando a parlare, stanno iniziando a farci molte ricerche, ci sono molte aziende che iniziano a lanciarsi in questo business che poi diventa anche un business. Probabilmente è comunque una cosa utile che servirà ma dobbiamo andarci veramente con molta molta attenzione. Va bene direi che anche per oggi abbiamo esaurito i nostri argomenti. Trovate molte altre notizie della giornata di oggi nella pagina della Segna Stampa Italia che cambiamo tutti i giorni. Io quindi vi saluto. Vi dico che domani e dopodomani, quindi giovedì e venerdì, ci saranno due puntate speciali di io non mi rassegno dedicate all'edilizia e alla crisi della democrazia rappresentativa e che invece nei primi tre giorni della prossima settimana, quindi lunedì, martedì e mercoledì, non ci sarò e sarò sostituito da due miei colleghi, cioè un mio collega e una mia collega, Daniel Tarozzi e Annalisa Iannone, che faranno anche loro delle puntate speciali di io non mi rassegno. Quindi non vi preoccupate se non mi vedete per i primi tre giorni della prossima settimana e poi da giovedì ci ritroviamo, come al solito, tutti i giorni, sempre alle 10, sempre per 10 minuti e sempre con io non mi rassegno. Va bene? A domani e ricordatevi, chi si rassegna è perduto. Ciao!